Gentili telespettatori, buona giornata. Alle 14.01 arriva la domanda a Meloni durante la conferenza stampa sul familismo, cioè la famiglia in politica della Meloni. E lei dice, beh comincia un po' a stufarmi questa accusa di familismo e siamo alla terza ora di domande, quindi Giorgia Meloni è anche un po' stanca, ha risposto a tutte le domande. Dice, comincio ad avere un po' degli svarioni dopo tre ore di domanda. Sulle pensioni una risposta ecumenica, la sostenibilità del sistema pensionistico va costruito, deve essere il migliore possibile ma uguale per tutti. E poi, sul caso Pozzolo, il giornalista dice, pensa ad una riforma del suo partito che non è più a conduzione familiare? Pensa di togliere la fiamma dal simbolo? E la Meloni dice, l'accusa continua di familismo del mio partito comincia a stufarmi. Sono accuse che non ho sentito a sinistra, come in sinistra italiana. Sapete che a sinistra ci sono parecchie coppie, marito e moglie, per esempio fratto Gianni Franceschini, le mogli sono in politica, poi ci sono anche altri casi che adesso non ricordo. Quindi la Meloni dice, sono accuse che non ho sentito a sinistra, come in sinistra italiana. Mia sorella sono trent'anni che lavora in Fratelli d'Italia. L'ho messa a capo del partito? Certo, potevo metterla a capo di una partecipata. Nessuna risposta sulla fiamma nel simbolo. La Premier glissa. Non si sa se pensa di toglierla. Allora, come dire, non ho messo mia sorella a capo dell'Inps. Mia sorella è trent'anni che è nel partito, continua a rimanere nel partito, faceva un lavoro dietro le quinte, adesso è stato ufficializzato. E poi, parliamoci chiaro, Arianna Meloni non è nel governo. Arianna Meloni ha un incarico in Fratelli d'Italia, ma Fratelli d'Italia è un partito. E nei partiti ognuno fa quello che vuole, il capo del partito fa quello che vuole. Lollobrigida è un politico da tanti anni in Fratelli d'Italia. Da quando è nato Fratelli d'Italia c'è Lollobrigida. E Lollobrigida ha conosciuto la sorella della Meloni e si sono sposati. E quindi Lollobrigida è diventato da amico, è diventato il cognato ministro. E' familismo. Diciamo che la Meloni avrebbe potuto dire, per non essere accusata dopo di familismo, guarda Lollobrigida, rimani solo un parlamentare e non ti faccio ministro. E tu Arianna continua a fare quello che facevi prima senza nessuna ufficializzazione. Però io personalmente non ci vedo un familismo oggi in politica. Certo ci sono dei casi di marito e moglie in politica, come per esempio Franceschini, Fratoianni, Fratoianni con la Piccolotti, sono marito e moglie. Poi il perché si sono conosciuti quando erano già politici, si sono conosciuti dopo, non lo so quali sono state le dinamiche in questi matrimoni di politica. Non lo so, sinceramente direi una cavolata dicendovi, ah quello, quella, non lo so. Ci sono per esempio un altro caso che mi viene in mente adesso, De Luca, presidente della regione Campania, il figlio di De Luca è un parlamentare del PD, padre e figlio, marito-moglie, moglie-marito, anche nelle università italiane c'è il papà e la figlia, che anche la figlia diventa professoressa, marito e moglie che fanno tutti e due i professori, ma si sono conosciuti lì o uno dei due è diventato professore dopo che l'altro ha avuto l'incarico? Ecco, ecco, ci sono tante storie, di familismo ce ne sono tante in Italia. Per quanto riguarda l'accusa di familismo in Fratelli d'Italia, realmente Lollo Brigida non è che faceva il carpentiero, il muratore e l'hanno assu e diventato ministro quando la Meloni è andata al governo, la sorella non è che è entrata nel partito quando la Meloni è andata al governo, la sorella addirittura forse era entrata in politica qualche anno prima della Meloni, nell'MSI credo, e poi in alleanza nazionale, pertanto diciamo che anche Lollo Brigida non è che è nato politicamente ieri, quindi l'accusa di familismo la Meloni la rispedisce al mettente e poi parla anche dell'accusa che è stata fatta ad esponenti del suo partito perché una deputata, la Mennoni, aveva ipotizzato che l'aspirazione delle donne fosse fare figli e la Meloni dice non credo che la parola aspirazione sia quella giusta, non accetto che una donna debba scegliere che la maternità possa precludere altre opportunità, la Presidente della Commissione dell'Unione Europea ha sette figli, quella del Parlamento Europeo ha quattro figli, l'obiettivo è costruire gli strumenti per conciliare lavoro e maternità, e certo, Presidente dell'Unione Europea e quella del Parlamento, voi sapete che il lavoro del politico non è un lavoro dove chissà quale fatica fai, quindi puoi avere quattro o sette figli, se fai il metalmeccanico in Italia ed esci la mattina alle cinque e torni a casa la sera alle otto e magari tua moglie fa la metalmeccanica nella stessa azienda, e chi te li cura i sette figli? Ma chi te li cura quattro? Ma chi te ne cura due? Ma chi te ne cura uno? Devi avere l'appoggio dei genitori, dei nonni, ecco, oggi per avere i figli in un mondo dove sei praticamente uno schiavo del lavoro, sottopagato, e avere dei figli oggi è un problema per marito o moglie, perché per avere dei figli ce lo possiamo permettere economicamente, ma con il tempo ce lo possiamo permettere? C'è qualcuno che ci cura i figli? Perché poi tu i figli li vedi solo il sabato e domenica, forse, magari ti fanno lavorare anche il sabato, ecco, purtroppo chi lavora e fa un lavoro normale deve spesso scegliere, o lavoro o faccio figli, un parlamentare europeo si può permettere anche sette figli perché l'impegno lavorativo è andare qualche volta a schiacciare un pulsante, oppure anche se non vai non ti dice niente nessuno, tu devi andare a prendere il figlio a scuola e dovevi andare a schiacciare qualche pulsante al Parlamento europeo vai a prendere i figli a scuola, dice non c'era perché non potevo esserci, non c'è nessuno che ti dice la prossima volta ti licenzio, ecco, quindi c'è lavoro e lavoro. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.